Avete presente quelle volte, disgraziatamente piuttosto rare, in cui un gioco davvero ti sorprende? È una ottima sensazione. Già, e questo Guardiani della Galassia? Ero partito con praticamente zero aspettative, ma mi ha veramente divertito, ragazzi, molto più di quanto potessi mai immaginare. Questo non vuol dire che sia esente da difetti, però. E adesso ne parliamo, dopo la sigla. Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming. Allora, allora, lo so, è passato un po' di tempo da quando in realtà abbiamo finito insieme in live su Twitch, e quindi potete ritrovare tutta quanta la serie sul secondo canale YouTube, Guardiani della Galassia, o meglio, Marvel's Guardians of the Galaxy. Lo so, è passato un sacco di tempo, a dir la verità, quindi non tanto poco, però purtroppo, sapete, in questo ultimo periodo ho avuto qualche difficoltà dal punto di vista lavorativo e dal punto di vista della mia, diciamo, salute personale. Se mi seguite già lo sapete. Non voglio tornarci in questo momento. Tutto questo per dire che avrei voluto fare questa sorta di mia visione, miei impressioni, barra di Guardiani della Galassia già parecchio tempo fa, ma purtroppo non mi è stato possibile, ma volevo troppo farla, perciò eccoci qua. Allora, gente, come vi ho detto, io ero partito senza aspettative per questo gioco, anzi, con molti, molti, molti dubbi, tanto che lì per lì, fino a qualche giorno prima della reale uscita del gioco, io ero quasi intenzionato a non portarlo. La ragione è semplice, ragazzi, non mi aveva convinto. Durante le varie presentazioni, anche dopo che avevano mostrato parecchio gameplay, eccetera, c'erano delle cose che mi attiravano di questo gioco, ma erano più le cose che mi lasciavano molto perplesso. E oltretutto, e scommetto che per la maggior parte delle persone è stato così, il fail terribile, cioè la grande delusione di Avengers, il gioco, sempre fatto da Square Enix, ha portato molte persone a essere molto dubbiose nei confronti di questo gioco, che però, ve lo dico fin da subito, ha molto poco a che spartire con Avengers, anche dal punto di vista di come è stato proprio pensato, fin dall'inizio, fin dalle origini. È diverso tanto, ragazzi, perché è un gioco al 99% single player, ovvero vivi la tua avventura in maniera completamente solitaria. È la tua avventura e quella di nessun altro. E questa è stata per me una cosa molto importante, perché secondo me il più grande errore di Avengers è stato proprio quello di forzare una sorta di game as a service all'interno di un gioco che, secondo me, non si prestava minimamente a questo tipo di cose, ma piuttosto al classico, diciamo, tunnelone cinematic ad alto budget che ti diverte per un certo numero di ore e poi finisce là. Hanno tentato di fare il passo verso un gioco più remunerativo, fallendo miseramente. Con questo Guardiani della Galassia, invece, sono andati proprio per questa via qua, per la via del single player al 100%, per un'avventura estremamente curata, molto tunnelosa, con quindi poco spazio poca libertà che ti fa vivere delle vicende dall'inizio alla fine. Ragazzi, c'è chi non ama questo tipo di impostazione, ma io sono sempre stato uno di quelli che non ha mai disdegnato il tunnel in un videogioco qualunque quando è fatto bene, cioè quando mi offri delle esperienze che valgono la pena di essere vissute. Anche se scriptate non mi è mai importato più di tanto, l'importante è che quello che c'è a schermo sia di valore, che mi stai raccontando una bella storia che me la stai facendo vivere nella maniera più opportuna. Ma questo è quello che penso io. Ma evidentemente, insomma, non sono il solo, perché molte persone si sono ricredute su questo gioco proprio dopo aver saputo che era veramente un single player. Ha deciso di dargli qualche possibilità. Ma fino a poche ore prima del lancio, se vogliamo, va fino a 24 ore. Prima del lancio io avevo ancora un sacco di dubbi. Ma poi sono arrivate le recensioni. Sono arrivate le recensioni anche di youtuber, di content creator o di stampa specializzata, insomma, di fonti che col passare del tempo io ho selezionato tra le mie preferite di cui tendenzialmente tendo a fidarmi o perlomeno considero la loro opinione in maniera abbastanza importante e tutte dicevano ragazzi guardate che questo gioco è figo forte, cioè è fatto veramente bene o avevo anch'io un sacco di dubbi ma credetemi, no, giocatelo perché è veramente figo. E a quel punto mi sono convinto. Abbiamo iniziato a giocarlo insieme. E beh ragazzi, quello che ho avuto davanti agli occhi è qualcosa che è andato molto al di là delle mie più rose aspettative. Cioè l'impatto con questo gioco è stato con, boh, diciamo vivere una via di mezzo tra un film di animazione e un film della Marvel. Cioè sembrava di vivere una sorta di spin-off dei film dei Guardiani della Galassia, quelli della Marvel, che io ho assolutamente adorato, sono i miei film della Marvel preferiti, l'1 e il 2 dei Guardiani della Galassia e sto aspettando tantissimo il 3 tra parentesi, ok. Ma questa è un'altra questione. Unita insieme un po' a un film di animazione perché comunque è tutto un pochettino più cartonoso nel videogioco come è anche giusto che sia. Tutto quello che si vede a schermo è fighissimo. Ma tutto, cioè dal comparto tecnico a quello artistico a come ti vengono raccontate le cose all'antefatto, sembra davvero di vivere un film in una certa maniera però, ma nel senso buono del termine, ovvero chi decide di farti vivere un film, e quindi quello dipende dai gusti, c'è chi odia i tunnel, ne stavamo parlando prima, ma ammesso che i tunnel vi piacciono, ovviamente devono essere fatti bene. E questo ci mette un'ora a farti capire questo gioco, che qua fanno sul serio. Non è un sottoprodotto, un qualcosa che è stato pensato per vendere soltanto perché c'è l'etichetta Marvel appiccicato sopra. Hanno investito davvero del tempo e della cura in praticamente tutto all'interno di questo gioco e la sorpresa per me è stata fin dall'inizio, fin dall'inizio. Mi è bastato veramente poco e devo dirvi la sincera verità, in tutte le ore in cui ho giocato a questo gioco insieme a voi, questa sensazione qui non se n'è mai andata del tutto. Ovviamente si è un pochettino affievolita nel momento in cui cominci a superare un certo numero di ore, ti abitui a che cosa il gioco ha da offrire, ovviamente l'effetto wow un pochettino si affievolisce. Ma vi ripeto, non è mai sparito del tutto. Questo gioco mi ha sorpreso e divertito dall'inizio alla fine. Iniziamo a parlare della prima cosa che voglio dirvi di questo gioco, ovvero il comparto tecnico. Raga, raga, siamo di fronte a qualcosa di veramente importante. Il top di gamma in assoluto del mondo del gaming? No. Ma siamo in quella fascia lì, eh? Cioè in quella fascia molto alta. La cura con cui è stata realizzato tutto all'interno di questo gioco, i modelli, l'astronave, cioè la Milano, l'astronave dei Guardiani della Galassia, l'astronave di Star-Lord. Tutti gli ambienti, tutti gli altri modelli, le armi, i mostri, tutto è realizzato veramente bene, con cure, con un livello tecnico veramente tanto alto. Tanto. L'unica cosa che vagamente ogni tanto fa storcere un pochettino il naso è un po' nelle animazioni dei personaggi, ogni tanto si avverte un pochettino di legnosità. Ma quello lo attribuisco al... avete presente? Quello che fa un comparto tecnico di animazione assolutamente della Madonna che arriva da 0 a 100 e gli togli quel 10% che è quello che trovi in veramente pochissimi giochi, cioè in quei pochissimi giochi che hanno l'animazione curata fin nel più assoluto dettaglio e che ti fanno dire miseria ladra, hanno pensato perfino a questo. A me questo effetto me l'ha fatto The Last of Us parte 2 appena ho visto i personaggi scendere dal cavallo e non avere quel momento in cui l'animazione del personaggio si resetta. No, c'era quella... proprio scorrevano placidamente come se stessero fossero veramente delle persone che scendevano da cavallo. Ecco, quello e pochissimi altri giochi me ne hanno dato. Perciò, quando vi dico che ci sono queste animazioni un pochettino legnose, vi dovete immaginare che non ha quella cura maniacale che ha The Last of Us. Toglieteli quel 10% e per il resto questo gioco ha tutto dal punto di vista del comparto tecnico. Sant'iddio, è stata una delle mie sorprese maggiori. Non pensavo che avrebbero raggiunto questo livello qui. Mi è sempre sembrato un gioco, un po' di serie B, questo qui. Quelli che ti vendono perché te lo devono vendere, perché c'è scritto Marvel, perché c'è scritto i Guardiani della Galassia e quindi i ragazzini lo comprano, è viva, c'è Groot. Oh, guarda, c'è anche quel procione che fa esplodere tutto, Rocket, no? E che dice un sacco di parolacce. E poi c'è Starlord che è un sacco coglione ed è simpatico. E poi c'è Drax che fa un sacco ridere perché non ha capacità sociali e dice delle cose inopportune, non capendo il sarcasmo. E poi c'è Groot che dice sempre io sono Groot. Io così l'avevo intesa, no? Ma non è così. Non è così, ragazzi. Ecco, questa forse è una buona cosa da dire. È la stessa sorpresa che ho provato con i film dei Guardiani della Galassia, a cui inizialmente non avevo dato una lira, ma poi sono diventati i miei film preferiti perché, vabbè, gli attori, poi James Gunn e... vabbè, ok. Quindi, comparto tecnico al massimo livello. Comparto artistico? Beh, siamo là, ragazzi. C'è tanta roba qui. Il gioco non dura poi così poco. Abbiamo fatto parecchie live a botta di tre ore noi per coprirlo tutto quanto. E ci sono tanti scenari molto complessi, molto articolati, tanta roba che scorre a schermo per tanto tempo, tutta dettagliata e tutta ben pensata anche dal punto di vista artistico. Mio Dio! Quindi continuiamo ad aggiungere cose su cose su cose, di carte a favore di questo gioco. Iniziamo ora però ad arrivare al punto cardine, in cui vi sto per dire la cosa che, in assoluto, più di tutti mi ha sorpreso di questo gioco e che non credo di aver trovato mai in nessun altro gioco. Forse in qualcuno, perché proprio si basava completamente sul comparto narrativo, mi vengono in mente, che ne so, Detroit Become Human, oppure tante altre cose, perché lì le linee di dialogo registrate erano veramente tantissime, perché dovevi pensare a più... a scelte multiple, a una diramazione della trama che poteva andare in diverse direzioni e... Ma, ragazzi, cercate di capirmi bene. In questo gioco non stanno zitti un secondo, ma con non stanno zitti un secondo potrebbe sembrare una cosa negativa. Non lo è, è l'esatto opposto. Raga, in questo gioco non stanno zitti mai, e lo fanno con dialoghi ben pensati, ben realizzati, ben doppiati, completamente localizzati in italiano, dall'inizio alla fine. Non c'è quasi mai un momento in cui non stanno zitti, in cui non stanno dicendo qualcosa di quasi sempre diverso, tranne alcune eccezioni, e sorprendentemente coerente anche in maniera modulare con quello che stai facendo al momento. Tipo, se vai in una zona per andare a esplorare, cioè che è un pochettino secondaria, se vogliamo, qui non ci sono missioni secondarie, ma ci sono delle zone secondarie da esplorare mentre stai andando in giro. Bene, si triggerano dei dialoghi che sono specifici per quella piccola zona di quel preciso segmento di gioco in cui stai andando a esplorare, c'è Gamora che ti dice qualcosa, o Rocket o Drax che ti dicono qualcosa, che non ti dicono in nessun altro momento, se non lì, in quello spazio della secondaria. E questo si aggiunge a una quantità di dialoghi mostruosa, completamente, ripeto, localizzata in italiano, sempre costante, sempre ben pensata, sempre ben eseguita dai doppiatori. Ma cosa? Avete presente quando dici, ma com'è possibile, però in positivo, mai vista una roba del genere, se non in rarissimi casi? Cioè, qua siamo veramente in uno dei comparti di dialogo, dialoganti, non lo so come si dice, per quanto riguarda i dialoghi di scrittura e interpretazione migliori che abbia mai sentito, perché sono sempre divertenti. Certo, deve piacerti un pochettino il genere. Ripeto, avete presente i film dei guardiani della galassia, non si fa un altro che dire minchiate a vicenda uno sopra l'altro, eccetera. Se non siete amanti di questa cosa, forse potrebbero stuccare un po', effettivamente, d'accordo. Ma se come me, invece, amate questa cosa, io sono stato in paradiso dall'inizio alla fine, mi sono divertito come un bambino. Anche soltanto per ascoltare Rocket, che continuava a dire le peggio cose, o Drax, che continuava sempre a dire la cosa inappropriata, è stato fantastico, ragazzi. E per quanto riguarda la storia, dobbiamo dire che, vabbè, è una storia narrata dall'inizio alla fine. E si accompagna perfettamente con tutti quanti, cioè, o meglio, gli ambienti accompagnano perfettamente tutta quanta la storia, che non è niente di che, vi devo dire la sincera verità, cioè, non è un qualcosa che dite, oh mio Dio, la storia di questo gioco è assolutamente fantastica, me la ricorderò finché campo. No, no. Non è niente che entri nell'Olimpo delle storie dei videogiochi da tenere a mente, assolutamente no. È divertente, ragazzi, cioè, ti coinvolge, è appropriata ed è circondata da tantissime cose fighe, perciò, diciamo che, allora, vogliamo dirla così? Tiene botta rispetto al fulgore di tutto quanto il resto, ok? Quindi, finora vi ho dato un quadro completamente idilliaco di questo gioco. Sembra uno dei migliori mai usciti, no? Adesso cominciamo ad arrivare a quel paio di cose che non mi sono piaciute tanto e che però sono... è piuttosto importanti, ragazzi, e non posso negare che abbiano danneggiato la mia esperienza del gioco, che se da un lato è stata assolutamente incredibile, veramente, io ero con gli occhi sbarrati la maggior parte delle volte, sia per la figaggine, sia per la consapevolezza di dire, ma veramente hanno fatto questo, eh? E dall'altra però ci sono da dire un po' di cose. Iniziamo con quella che mi ha dato meno fastidio, ma che comunque va detta, non ho due, eh, comunque non più di tante, il gameplay del combattimento. In questo gioco si combatte, ok? Si combatte abbastanza di frequente, non in continuazione, sia chiaro, ma si combatte tanto e quando ci sono le parti action, voglio dire, c'è un po' di puzzle solving, c'è un po' di platforming e poi si combatte, ok? Non poco tempo, si combatte abbastanza. E beh, ragazzi, devo dirvi la sincera verità. Anche se il combattimento non è così brutto come temevo, cioè il combattimento, quella parte lì, proprio la sensazione pad alla mano del giocare all'interno del gioco, era una delle cose che mi preoccupava di più in assoluto di questo gioco qui? No, non è così male come pensavo, ma da qui a dire che è un combattimento assolutamente ben pensato e divertente al 100%, eh, no ragazzi, è un combattimento che mi sa tanto di miglior soluzione possibile trovata con quello che si aveva. Cosa voglio dire con questo? È che quello che ho pensato io è che avevano da gestire questa squadra, ok? Perché i guardiani della galassia non è un... sono tanti, ok? Come diavolo facciamo a gestire questa cosa? Facciamo il combattimento tattico per carità? No, questo è un gioco per le masse, ci vuole qualcosa di action? Assolutamente, d'accordo. Ok, va bene, ma come facciamo? Allora, facciamo usare al giocatore potenzialmente tutti e cinque i guardiani della galassia? No, per carità, bisogna raddoppiare il budget, no? Per fare una cosa del genere, per far utilizzare al giocatore tutti quanti equamente. E va bene, allora gli facciamo usare solo uno, è limitante. Sì, è limitante, però utilizziamo attraverso... gli facciamo usare Starlord, che è il capo, se vogliamo, tra virgolette, della squadra, e gli facciamo utilizzare però anche gli altri personaggi che sono lì, combattono con la loro IA, quindi li controlla il computer, gli altri guardiani combattono insieme a Starlord, perché voi impersonate Starlord, sempre, cioè non potete impersonare qualcun altro, di fatto, e però ti facciamo usare anche le abilità degli altri personaggi, il che vuol dire che a seconda dei momenti ci sono dei nemici che hanno un certo tipo di scudo, che puoi rompere con una tua abilità di Starlord, oppure è meglio utilizzare qualcosa di un altro personaggio. Gamora è molto forte sui bersagli singoli, Groot tira delle radici che blocca tutti, oppure fa saltare tutti quanti per aria, quindi è utile per le cose ad aria. Rocket uguale, fa esplodere tutto, quindi va bene per le cose ad aria. Drax è bravissimo per stordire i bersagli singoli, non solo, ognuno di questi personaggi ha anche delle cose per bersagli multipli o singoli eccetera, quindi dentro di te ti crea questa specie di tattica e quindi alla fine non è male il combattimento, però secondo me è stato una risultante che è il minimo comune denominatore del meglio che sono riusciti a fare con quello che avevano e con quello che hanno potuto inventarsi nella circostanza che avevano creato con il resto del gioco. Non so se mi sono spiegato ragazzi, ma tutto questo per dire che ok, non è male il combattimento, ma non è certo la cosa migliore di questo gioco, ma neanche da lontano, è anzi un qualcosa che potreste ritenere inferiore, potreste ritenere stucchevole il combattimento e poi è abbastanza facile, tranne alcuni scontri che sono stati effettivamente un po' problematici, ma ci sta, è facile, è molto accessibile il combattimento, sta vivendo una sorta di filmazzo supereroistico, questo forse un pochettino ve lo potevate anche aspettare, però ve lo confermo un po' in negativo, non è davvero niente di che il combattimento. Poi la parte finale ha alcune cose fighissime, ma se proprio devo dire la tutta, è la parte che mi è piaciuta di meno, ok? Trovo molto più fighe tante altre parti e questo mi ha un po' smosciato, se proprio devo dire la sincera verità, perché c'era tanto potenziale per finire in una maniera completamente diversa e lì mi è tornato in mente quel fatto del budget, nel senso che magari sono arrivati lì da... è finito il budget, cazzo! Vabbè, non lo so, sto speculando ragazzi, però mi ha dato quella sensazione e... non lo so, alcune sezioni finali sono un po' così, ok? Speravo meglio, speravo meglio, ma speravo meglio perché era il gioco ad avermi fatto abituare bene fino a quel momento, cioè è stata una quantità di cose fighissime e il finale al confronto, secondo me, la parte finale non è poi tutto questo che... ma di gran lunga la cosa che mi ha dato più fastidio in assoluto e però parlo per una persona che l'ha giocato su PC, questo gioco qua, sono stati i bug. Ragazzi, mi si è rotto il gioco più, più, più volte. Adesso non ho più rifatto i conti, ok? Ma se non sbaglio ero arrivato all'ultima live contando qualcosa come 12 o 13 volte in cui ho incontrato qualcosa che mi ha impedito di fatto di giocare. o un bug rompigioco che mi ha costretto a riavviare la missione, no? In alcuni casi tipo tre volte di fila, forse anche più di 13, guarda che ci penso, mi sa che il conto era tipo della penultima live, non lo so, non mi ricordo bene, ma siamo su quell'ordine lì, oppure delle volte in cui il gioco è crashato e qui siamo sulle 5-6 volte, ok? E sto parlando dei bug proprio rompigioco, cioè quelli che non ti permettono di andare avanti se non riavvi il gioco o se non ricarichi il checkpoint. Questo è inaccettabile, perché poi ci sono tutti gli altri bug che sono semplicemente dei glitch, delle cose che puoi, diciamo, ovviare in qualche maniera e poi quelli che ti fanno semplicemente sorridere, ok? Ecco, quelli proprio non si contano, ragazzi. Questo gioco è eccessivamente bugato, ok? D'accordo, lo sappiamo, io sto parlando della versione del lancio, cioè io l'ho giocato fin dal day one, praticamente, mi sono spinto giusto un pochettino più in avanti, credo di aver coperto durante tutta la nostra serie che abbiamo fatto in live su Twitch, credo un paio di patch, cioè quella del giorno dopo, quella di qualche giorno dopo e basta. Magari nel momento in cui sto facendo questa recensione il gioco avrà quasi sicuramente ricevuto delle altre patch, quindi la vostra esperienza potrebbe non essere così buggata come la mia, ma io scelgo sempre di dirvele apertamente queste cose, perché anche fosse che state guardando questa recensione a due anni di distanza dall'uscita del gioco, queste sono cose che, dannazione, io non voglio perdonare a chi mette in commercio i giochi al day one in questo stato. Non è accettabile, non si deve fare questa roba qui, cioè è un prendere i giocatori che hanno più hype, cioè quelli che vogliono comprare la lancio, come beta tester. Questa è una cosa che mi dà un fastidio cane ormai da anni e io non ne posso più, dell'industria videoludica in generale, perché purtroppo la cosa è veramente molto diffusa, non di tutti, perché c'è chi lavora anche con molto criterio, ma troppe aziende al giorno d'oggi ti tirano fuori dei prodotti che a lancio sono buggati. E poi ragazzi, l'ho giocato con voi in live dal primo momento fino all'ultimo, siete tutti testimoni di tutto quello che è successo e potete recuperare l'intera serie sul canale YouTube, non mi sto inventando niente. Volete farlo a voi il conto? Fatelo voi. Andate a vedere l'intera serie e vedete la quantità di volte in cui mi sono dovuto fermare perché c'era un bug o in cui è crashato il gioco. Certo, online ho sentito anche di peggio, di gente che veramente non è riuscita a un certo punto ad andare avanti, dopo 20-30 volte in cui tentava di riavviare quello specifico punto ma proprio non riusciva ad andare avanti, a me non è andata così male, ma io non ho avuto un sacco di bug, ok? Perciò, insomma, non ve la posso non riportare questa cosa qui, perché è ovviamente un problema, un problema serio, quasi più ideologico se volete, ma non voglio metterla da parte come si fa, come fanno certi, cioè che questa cosa la accennano un pochettino considerando che vabbè tanto lo patchano poi, no cazzo, questa cosa non va proprio bene e va, va bene, questo sta diventando un rant sull'industria videoludica, lasciamo perdere, però spero di essere stato chiaro, quindi attenzione, probabilmente adesso è più patchato, ma attenzione quando l'andate a giocare, assicuratevi che sia, giocatelo su console perché su pc è buggato a merda, invece tutti quelli che mi hanno detto che l'avevano giocato su console hanno detto, ma io non ho avuto nessun problema come quelli che hai avuto tu, cioè io stavo guardando la live magari insieme a me, stavo guardando, io su console sti problemi non ce l'ho avuti, non so come mai ti sono capitati a te, è l'eterna cosa del pc gaming, vabbè, ok, comunque al di là di questo, altre caratteristiche? La longevità, non è altissima ragazzi, ve l'ho già detto, è un gran tunnelone questo qui, però è piuttosto ricco, cioè c'è tanta carne al fuoco e avete tante ore di gioco per vivere una bella avventura, sta a voi però decidere se questo vale la candela, ovviamente è un gioco a prezzo pieno, ok? E qui il bilanciamento lo dovete fare voi, se vale davvero. Io vi posso dire anche che le musiche sono fighissime, ah giusto, mi stavo per dimenticare, qui c'è un altro dei bug, ma questa è proprio disattenzione degli sviluppatori che mi ha fatto imbestialire non tanto per quello che mi è capitato in sé, ma per il concetto. C'è, e questa volta l'ho voluto attivare la possibilità di mettere le live streamer safe, cosa vuol dire? È che il gioco è imbottito di canzoni coperte da copyright, perché c'è una colonna sonora che è ripresa molto dai film dei Guardiani della Galassia ed è imbottito di pezzi degli anni 80, 90 e 70, ok? Bellissimi e oltretutto a me piace tantissimo quella roba, l'avrei voluta tantissimo sentire insieme a voi, ma siccome mi sono un po' rotto le palle dei giochi che mettono un sacco di canzoni coperte a copyright e che mi smonetizzano completamente la serie e che mi ci vuole un sacco di tempo a fare, capite che per una volta ho deciso di dire ok, sentite, cerchiamo di avere fiducia, magari sostituiranno le canzoni originali con qualcos'altro, perché nel mentre sapevo che avevano praticamente creato una sorta di band fittizia che suonasse alcune delle canzoni per il gioco e quelle erano streamer safe, quindi ho detto vabbè, caso mai ci saranno le canzoni di quella band, anzi così avevo letto e ho detto va bene dai, facciamo streamer safe questa volta, così magari non guadagno zero per tutta quanta la serie, ok? Una volta tanto. Però che cosa è successo? È andata abbastanza bene la cosa, però in alcuni momenti evidentemente si sono dimenticati di rimettere delle altre musiche, quindi effettivamente ci sono stati dei momenti di vuoto, no? In cui i personaggi camminavano e qualcuno in chat mi diceva ma qui non dovrebbe esserci la musica? Che cavolo ne so? No no, io l'ho giocato, qui c'era la musica. Ah ok, no è perché ho messo streamer safe. Sì ma non dovrebbero sostituirla con qualcosa? Eh già, bella domanda. Chissà perché non l'hanno fatto? Eh non lo so. Eh beh, chiedilo a me. Ed è andata più o meno così, quindi alcuni punti non erano coperti da un'altra scelta di musiche, ma c'è stata una puntata che in particolare, anzi verso la fine, non so se è l'ultima o la penultima, che mi è stata completamente demonetizzata. Ma sapete perché? Perché nonostante io abbia messo l'opzione streamer safe, proprio la spuntina, a un certo punto sento una canzone dei Kiss e la riconosco anche. E lì per lì ho pensato come fa a non essere coperta da copyright questa qua? Vabbè, ho messo streamer safe, quindi probabilmente, non lo so, avranno un accordo particolare per il gioco, eccetera, però non sia coperto da copyright, non lo so, però io ho messo streamer safe, quindi dovrei essere in guardia. Morale della favola? Non lo ero, proprio per un cazzo invece, e quella canzone, esattamente quella canzone dei Kiss è stata presa dal content ID di YouTube e mi ha demonetizzato l'intera puntata di tre ore. No? E questa è disattenzione pura da parte degli sviluppatori che, ops, non abbiamo sostituito quella musica lì anche nell'opzione streamer safe, mannaggina, eh, siamo stati dei birbanti, la fregna di mammeta, no birbanti? Eh, quindi, eh, niente, è andata così, lo so, volevo... Io mi sono incazzato veramente, adesso ve la sto mettendo un pochettino sul comico, però capite come queste cose non vanno tanto bene, d'accordo? Detto questo ragazzi, adesso che ho fatto questa seconda parte pare che sto criticando veramente tanto il gioco. Quello che dovete fare adesso è sommare queste due cose. E che cosa ottenete? Diciamo che ve lo dico io, ok? Che cosa otteniamo secondo me? Otteniamo un gioco che ha dei difetti abbastanza importanti e delle leggerezze e il solito uscire baggato al day one che mi fa girare le balle a elica, che potrei arrivarci più o meno dall'altra parte dell'adriatico, no? Ma che dall'altro canto ha una cura sul comparto tecnico, artistico, narrativo, di dialoghi, di doppiaggio e di musiche, quando si ricordano di curare bene l'opzione streamer safe, che è onestamente molto, molto, molto al di là di quanto mi immaginassi. Sì, il combattimento non è un granché, è vero, d'accordo, il gameplay del combattimento non è un granché, bisogna dirlo. Fatelo voi il bilanciamento di questo, di tutto questo intendo. Per me è uno dei giochi più belli a cui abbia giocato quest'anno, vi dico la sincera verità, al netto di tutto, perché davvero sono rimasto molto sorpreso dai lati positivi ed è un gioco che mi ricorderò a lungo. È così che si fanno i giochi, perlomeno da questo punto di vista, ed è così che non si fanno da quell'altro punto di vista, se vogliamo, ma dai, sentite, io li critico anche aspramente i giochi, gli eventi, le case di sviluppo o gli sviluppatori o anche le persone, sapete che non ho remore a farlo, no? Però in questo caso, sentite, hanno fatto un talmente bel lavoro da così tanti punti di vista che mi sento comunque di promuoverli, insomma, avete fatto un gran lavoro e annotatevi bene le mancanze, dannazione, e fate bene con Marvel's Guardians of the Galaxy 2, che a questo punto spero davvero che arrivi, perché secondo me è un'esperienza che va ripetuta, questa qui. Io spero davvero, in un seguito di questo gioco, che si inventi qualcosa di meglio sul gameplay, che curi di più il gioco all'uscita dai bug, eccetera, e che abbia un pochettino più di attenzione sulle, tra virgolette, piccole cose. Ebbene, ragazzi, questo era tutto quello che volevo dirvi per la recensione, che è stata anche più lunga di quanto mi immaginassi, ma, dannazione, ce n'avevo un po' di cose da dire su questo gioco e mi dispiaceva lasciarne fuori parecchie, perché c'è stato questo dualismo quasi continuo, e però, sentite ragazzi, ho preso posizione per una volta, ho voluto tenere più in considerazione le cose belle, perché sono davvero tanto belle, mentre queste cose de merda c'erano tanti altri giochi, e queste belle invece non tanto, siamo veramente ad alti livelli per quanto riguarda i pregi di questo gioco, quindi ho voluto scegliere questo come bilanciamento, il vostro potrebbe anche essere diverso, e quindi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto, nella sezione commenti, d'accordo, se l'avete giocato voi, se avete seguito la serie insieme a me, oppure se volete recuperarla, ovviamente sapete dove trovarla, d'accordo ragazzi? Grazie a tutti per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo, e come sempre gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, e qui sotto, in descrizione, trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram, Telegram e Discord, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti quanti i video delle mie recensioni, il link alla playlist sul secondo canale di tutta la mia serie dei Guardiani della Galassia, e infine, se volete, anche il link per acquistare il gioco, e sappiate che se lo acquistate tramite questo link, che è quello di Stan Gaming, mi pare, perlomeno credo che sarà questo qui in descrizione, sappiate che è un link affiliato, e quindi se volete supportare quello che faccio, e vi è piaciuta questa recensione, vi piacciono i miei video, eccetera, questo è un modo per supportarmi, molto efficace, quindi basta che acquistate questo gioco o un'altra cosa attraverso il link affiliato. D'accordo ragazzi? Grazie di nuovo a tutti, ci vediamo presto. Grazie a tutti.